La quarta rete ad opera di Lele Emanuele Gialleonardo, detto Lele, realizza la quarta rete al nostro favore. Un bel passaggio di Teidi Mata, 4-0 nel risultato fino adesso. C'è un cambio adesso, c'è un cambio, entra Alessio Ceroli con il numero 15 ed esce il numero 2, Lorenzo Cuniberti detto Pitbull, esce e viene sostituito dal numero 15 Ceroli. Forza, bravo Lorenzo.